andiamo su google e cerchiamo leggi per me scritto leggi x me il primo risultato che verrà fuori è quello che non ci serve leggi per me google sites qui scendiamo fino ad arrivare al prodotto che ci interessa che leggi per me fw40 se scorriamo in basso ci sono le indicazioni su come scaricare il prodotto in pratica bisogna scaricare due prodotti il primo è leggi per me fw40 che è il software si può fare attraverso one drive come appena fatto in questo momento nel momento in cui si apre bisogna cliccare una volta su scarica vedete in alto a sinistra si aprirà una finestra a questo punto diremo in quale zona del nostro computer o della nostra chiavetta vogliamo che venga scaricato il software io ho scelto di scaricarlo nella cartella documenti una cartella che si chiama leggi per me e a questo punto vedete in basso a sinistra parte il download del software in maniera del tutto analoga si può andare a scaricare invece che con con one drive con google drive si clicca una volta su google drive anche in questo caso si aprirà una finestra in cui ci sarà il comando per scaricare sul nostro computer vedete in alto sulla destra scarica google drive vi avvisa che non può eseguire la scansione antivirus di questo file cliccate su scarica comunque e scegliete la cartella di destinazione sul vostro computer attraverso il tasto salva il secondo prodotto da scaricare è invece da installare per leggi per me cioè le sintesi vocali che servono al programma leggi per me per funzionare correttamente analogamente si andrà a dire dove salvare le sintesi vocali vedete che parte il download la velocità con cui il prodotto viene scaricato dipende dalla connessione che avete a disposizione a casa terminato il download si avranno due cartelle compresse col tasto destro scelgo di estrarre nella stessa cartella e vedete che ho la cartellina gialla doppio clic e doppio clic sul comando installare a questo punto parte l'installazione vera e propria per prima cosa vi chiederà di installare microsoft speech platform cliccate una volta su esegui date l'assenzio ad installare e procedete con l'installazione terminato questo primo passaggio si procederà all'installazione delle voci vere e proprie questi passaggi sono in totale sei perché sono sei le voci che dovrete andare a installare per cui ci sarà quella italiana quella francese inglese della gran bretagna inglese degli stati uniti spagnola e tedesca quando avete terminato il processo vi apparirà un messaggio che vi dirà che tutto è installato allo stesso modo si va a scompattare la cartella di leggi per me si attende che il processo sia finito quando vedete apparire la cartellina gialla cliccate due volte e due volte di nuovo cliccate sul tasto esegui togliete la spunta del gioco è fatto vedrete apparire dopo un po la barra in alto a sinistra ecco vedete la di della suite di programmi di leggi per me fw 40 grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti voi